Dimmero, qual è il tuo compito? Cosa ti ho mandato a fare? Devo liberarla? Ecco, c'è sempre una donna di mezzo. Non cercare di fagarmi, capito? Quindi tu volevi far evadere qualcuno, eh? E sentiamo, chi è che devi liberare? Ti conviene dirmelo se non vuoi finire dentro anche tu per un bel po' di tempo. Il mio compito è liberare la lingua pura. La lingua pura? Ti piace parlare strano, eh? Beh, chi è questa lingua pura? Dimmi il suo termone. È la lingua che si trova rinchiusa in opera. Guarda che era rinchiusa, l'ho immaginato. Ti credi così curva. Guarda che con me i tuoi trucchetti dell'intellettuale non funzionano. Beh, una lingua che si trova nascosta dentro un'altra lingua. Ma chi vuoi prendere in giro? Ma è la verità, è ciò che avviene durante la traduzione. Ah, che cos'è che stanno le cose? Durante la traduzione, quindi... Bene, vedo che inizi a capire. Apprezzo il tuo stile. Cioè, tu non vuoi dirmi le cose così come stanno, però me lo dici con i doppi sensi. Bene. Quindi la vuoi fare evadere mentre viene tradotta da un carcere a un altro. Beh, è già un punto di partenza. Cattani, mi porti la vista di tutte le prigioni... Grazie. 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 Grazie.